Con il minimo scarto in una partita con poche emozioni giocata soprattutto a centrocampo. Nerazzurri pericolosi al settimo, Carbone ruba palla a Gadda, poi si invola e crossa. Nero manda in corner, il Ravenna risponde al diciottesimo, calcio d'angolo, colpo di testa di Iachini. Al ventiduesimo, Schwok lavora bene una palla e serve Scarafoni che finisce a terra. L'arbitro Braschi lascia proseguire. Un minuto dopo il gol partita, discesa di Winter, Gonnella sbaglia l'intervento e il centrocampista Nerazzurro può presentarsi davanti a Rubini e insaccare. Al quarantesimo, azione di Carbone che aggira Gonnella ma il tiro è fuori. Nel secondo tempo il Ravenna si fa più aggressivo con gli innesti di Rinaldi e Zauli che mette in difficoltà più volte Anglomà e Bergomi. Al sedicesimo, in un contrasto, si infortuna a Winter sostituito da Berti. Salgono in cattedra Giorcaef e Carbone dimostrando di avere già raggiunto una buona intesa. Gli ultimi attacchi sono del Ravenna, ci prova prima Scarafoni di testa. Poi buonocore serve Rinaldi ma il sinistro è da dimenticare. Oxon al microfono di Antonio Graziani. 8 giocatori che non ci sono e ha fatto una partita corretta. Secondo me ha lavorato molto. Io preferisco che la squadra vieni qui e faccia una buona serata di lavoro.